Ecco i nostri giovanissimi che vanno al campo Enrico Esposito di Villa delle Rose a piedi con il loro mister Gabriele per il big match previsto per le ore 11.30 contro la capolista Virtus Lanciano. Dopo una sostanziosa colazione al bar René i ragazzi vanno a piedi al campo sportivo. Speriamo che non si spompano. Ragazzi a posta e a posta. Ci vediamo al campo.